Ma ciao, dolce piccola bambina, dimmi, ti piacciono le bambole? Sì! No, no, di che oggigiorno le bambole non facciano altro che mangiare e cacare! Certamente! Beh, allora verrai la nuova bambola che potrai radere! Molly! Non interrompermi! Ora tu puoi radere la bambola! Che aspetta un po' di ora! GIOCACI! Molly ha peli in qualunque tipo di rientranza! Il suo sistema di peli realistici ti darà infinite ore di divertimento! Una volta tagliati, i peli di Molly ricrescono! Sempre più veloci, sempre più robusti e in sempre più parti del corpo! Fatelo smettere, favore! Il divertimento non finisce mai! Ma lì, la nuova bambola da radere! Regala al tuo figlio la perfetta esperienza di gioco! A 19 dollari e 99, la meno non incluse! Ma ciao, la piccola bambina! Ma lì, la nuova bambola che da radere! A 19 dollari e 99 dollari e non incluse! Hai! Ma lì, la nuova bambina! E' la nuova bambina!